Inversione di ruoli tra mattina e pomeriggio per i giocatori dell'Udinese a disposizione di Mr. Colantuono dopo i difensori, il turno dei centrocampisti e anche attaccanti a disposizione dell'ex tecnico nerazzurro Stefano Colantuono che oggi è venuto qui al centro sportivo Bruseschi per la seconda volta in questo primo giorno di preritiro con esercizi che sono stati tutti incentrati sul pallone di possesso palla, una fase di riscaldamento poi come detto possesso palla con difesa attiva, adesso anche qualche fase di attacco con la finalizzazione verso i due portieri che sono a disposizione del gruppo finora e sono Scuffet e Meret gli altri tre, Romo, Berkic e Carnezis, si aggregheranno nel corso dei prossimi giorni quando arriveranno anche tutti gli altri elementi nazionali e non che hanno avuto un permesso speciale per iniziare più in là il ritiro effettivo che si avrà dal 12 luglio, nel frattempo questa sarà una fase di preritiro con i giocatori che faranno questa settimana di test fisici e lavoro intenso comunque con due sedute settimanali, una alle 9 e mezza di mattina e una alle 17 che noi seguiremo sempre in diretta con le nostre telecamere e poi anche con qualche impegno amichevole ricordiamo ci sarà l'impegno ovviamente quello più importante del 14 a Klagenfurt contro lo Schalke 04 ma prima anche un impegno in famiglia tra Udinese A e Udinese B che si avrà sabato proprio nel corso dell'allenamento pomeridiano, questo per quanto riguarda il report complessivo della prima giornata di lavoro dell'Udinese 2015-2016, targata Stefano Colantuono Grazie a tutti